Nessuna pietà per i traditori o presunti tali. La Corea del Nord ha annunciato l'esecuzione di Yang Song Taek, 67 anni, zio del leader Kim Jong-un, che era considerato il numero due del regime e mentore del nipote, succeduto al padre Kim Jong-il alla guida del paese a fine 2011. Arrestato la scorsa settimana nel pieno di una riunione politica, Yang è stato giustiziato subito dopo la condanna, emessa da un tribunale militare speciale. Per i giudici l'imputato è un traditore della nazione che ha commesso azioni faziose contro il partito e contro le rivoluzionarie, allo scopo di rovesciare la direzione del partito, dello Stato e del sistema socialista. Durante il suo processo, Yang avrebbe ammesso di aver cercato di fomentare un colpo di Stato, mobilitando i suoi complici dell'esercito.